C'è un problema, il problema si pone quando purtroppo devi fare degli amichevoli ma finiscono in questo modo qua. Io voglio ridere, io voglio ridere, cioè io voglio ridere perché altrimenti vorrei piangere. Non so a quale santo appellarmi, se mi succede una cosa del genere, in una partita di campionato o di Coppa Italia, io penso veramente che spacco tutto. Allora, premessa, premessa che... Segna Shomurodo, già è qualcosa, tra l'altro fa un bel gol, prende sto pallone... Anzi, premessa, la Roma ha perso Corbetis, la prima Coppa dell'anno, la Coppa d'Assi, una Coppa subita, abbiamo perso, capita, soprattutto a noi capita, abbiamo perso una Coppa, vabbè, una Coppetta. Potremmo vincere il secondo Bonsai, invece il Bonsai non l'abbiamo vinto ma questa è storia a parte. Dopo due minuti abbiamo preso qua da un 2000, uno su un 2000 e vabbè, e vabbè. Parigi a Shomurodo, sono contento, mette giù sta palla di bel portiere e butta il pallone in porta. Bene, sono contento anche per Shomurodo perché prende un po' più di esperienza, prende un po' più di consapevolezza e per il campionato sarà fondamentale quello che Shomurodo sta facendo e quello che Shomurodo farà poi in campionato. Quindi bene così. Poi però, poi però, fa una cappella gigantesca, abnorme, ma veramente abnorme, Rui Patrisio. Io ragazzi ho paura, io vi ripeto, ho paura perché adesso sono due cappelle inamichevole e non è cattiva, ma ragazzi sono cappelle pesanti. Cioè sono cappelle che non posso vedere, non posso vedere e ad alti livelli spero di non vederle perché poi cappelle del genere ti costano punti in classifica fondamentali e poi ti costano il piazzamento in Champions. Sono cappelle che non devono esistere mai nella vita, mai, mai, mai nella vita non devono esistere, non devono esistere, cappelle del genere e tu le fai. Ok, poi loro segnano, tra l'altro, tra l'altro ragazzi, il tocco di mano. Io voglio sapere chi cazzo ce l'ha mandato Starbito, io voglio sapere chi. Cioè com'è possibile? Vabbè che è un amichevole, che poi amichevole abbiamo rischiato più volte di fare a pugni oggi praticamente che in tutta la scorsa stagione, ma in questi amichevoli non facciamo nient'altro che essere nervosi? Cioè veramente affrontiamo una marea di gente ignorante di merda che vuole solo fare male e che vuole essere protagonista? L'arbitro di oggi ragazzi è inguardabile, ma ci rendiamo conto che abbiamo avvenuto un amichevole con espulsi Karsdorp, Mancini, Pellegrini. Poi Pellegrini che vabbè c'è un quoziente intellettivo pari a quello di un termosifone, ma questa è un'altra storia. Karsdorp, Mancini, Pellegrini che si lamenta per un tocco di mano. Netto, 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 notto, netto, netto. Ragazzi, netto si lamenta, si lamenta con il cui veramente pari a quello di uno scaldabagno, viene espulso e Murigno entra in campo, entra in campo e si fa buttare fuori pure lui. Cioè io non ho parole. E poi Murigno ride, io non capisco che cazzo sta succedendo. Non è che poi me ne freghi nulla della mia... Però ragazzi abbiamo finito in otto, abbiamo finito in otto. Poi non so, stavo vedendo, mancano due minuti, ne avevamo preso un altro da te io. Non so se ne butteranno fuori qualcun altro. Ma stiamo scherzando. Ma io qua divento scemo. Oh, siamo all'inizio della stagione. Cioè ragazzi, questa è stata l'amichevole della Roma. Noi siamo all'inizio della stagione. Io senza parole. Senza parole. Penultimo test. A parte che oggi ho odiato tutti. Tutti, dall'arbitro a tutti gli spagnoli nel mondo. Dal primo il capostipide fino all'ultimo. Fino a chiunque spagnolo, veramente. Anche il mondo di patti. Però al di là di questo, veramente assurdo. E un po' mi preoccupa. Perché la Roma dietro subisce tanto, perché è ingenua, perché... Mi comunicano che il mondo di patti è argentino. Non me ne frega un cazzo di dov'è il mondo di patti, porca put... Ciao raga.